C'è un piccolo aggiornamento sulla questione di Richetti il presidente di azione accusato da una donna di molestie sessuali vi ricorderete di un video edito da fanpage in cui questa donna, che io per ora continuo a non nominare anche se ormai il suo nome è ovunque, se dovesse essere lei accusava anonimamente il politico di averla molestata in un suo ufficio nel senato peraltro chiudendo la porta durante gli incontri mentre la sua assistente cercava di tenerla aperta come se volesse salvare la vittima dal mostro metterla al sicuro da quello che sembrava fatto intendere come un pattern comune questo è quello che dice la donna nell'intervista noi non lo sappiamo bene, la presunta vittima fa questa denuncia Richetti e Calenda vanno in contrattacco riportando di una donna che lo stalkerava e che era stata per questo denunciata dal senatore e che aveva peraltro alle spalle condanne per calunnia perché aveva già in passato messo in piedi accuse un attimo strane nei confronti di due conoscenti accusati di averla violentata ma anche di essere dei narcotrafficanti dopo tutto questo comunque il giornale domani scopre in un nanosecondo chi questa persona sarebbe potuta essere pubblicando nome e cognome in un gesto molto poco delicato che io non ho apprezzato ora, qual è l'aggiornamento? sempre sul quotidiano domani il giornalista che per il quotidiano si sta occupando del caso Emiliano Fittipaldi pubblica oggi delle nuove cose che possono essere interessanti tra le quali un'intervista alla stessa persona che lui stesso aveva indicato come fonte di fanpage e ve lo dico è tutto estremamente confuso l'intervista stessa è molto poco chiara molto poco lucida non so bene come dirlo e la cosa interessante è che mentre lei nega di essere la persona che ha parlato con fanpage cosa che quindi sarebbe gravissima per domani perché sarebbe stata tirata in mezzo una persona che nulla a che fare con tutto questo d'altra parte sembrano esserci degli elementi che invece convincono del contrario e che quindi le due donne siano di fatto la stessa donna per quanto riguarda l'intervista ve la linko ma se non siete iscritti non potete leggerla purtroppo e quello che posso dirvi è che sembra un po' sconnessa la donna dice di non essere lei la vittima in questione anche se poi ammette di essere stata perquisita dopo che Richetti l'ha denunciata sembra comunque far intuire che Richetti le abbia fatto qualcosa di spiacevole ma poi dice che sono affari suoi afferma che denuncerà tutti e la farà pagare a tutti e nel mezzo dice cose abbastanza strane come il fatto di essere imparentata con Aldo Moro e che da 15 anni la tv la vorrebbe per fare in reality ma lei dice di no io ve la lascio non benissimo non chiarissimo ma comunque non è un aspetto che ci interessa tanto perché l'aspetto veramente interessante è quello giornalistico secondo Fittipaldi infatti questa signora che è un'attrice figlia di un giornalista quindi nome in qualche modo noto al mondo televisivo e sarà un elemento importante e che lo abbiamo detto non ha mai denunciato Richetti per queste presunte vierenze avrebbe però in passato provato a mettersi in contatto con svariate redazioni dalla Rai a Mediaset dal Report alle Iene provando in qualche modo a vendere questa storia a chi di fatto nel nostro paese fa inchieste giornalistiche ma è a quanto pare sempre stata rimbalzata la sua storia a quanto pare non tornava alle Iene ad esempio le avrebbero chiesto di mostrare le conversazioni con il senatore che accusava ma lei si sarebbe rifiutata intenzionata a mostrare solo alcuni messaggi scelti da lei che presumibilmente nel caso fosse confermato che le due donne quella di fanpage a questa siano la stessa donna saranno stati quei messaggi che abbiamo visti pubblicati da fanpage tutte le gradazioni insomma l'avrebbero in qualche modo respinta invitandola a denunciare ma questo come abbiamo detto non è mai avvenuto ora quando avevamo affrontato la questione e io ho cercato di farlo nel modo più delicato possibile perché credo sia importante creare un ambiente in cui le vittime possano denunciare e non farle sentire immediatamente sotto processo ma dicevamo quando avevamo affrontato la questione da un punto di vista giornalistico avevo messo attenzione sul fatto che fanpage stia cercando di posizionarsi come giornali d'inchiesta e in Italia ce ne sono pochi hanno iniziato con il reportage sul riciclo dei rifiuti e contatti con la criminalità organizzata sono andati molto bene con il reportage sulla lobby nera i fascisti dando fratelli d'Italia ve lo ricorderete e ora sono apportati a questo che però potrebbe essere uno scivolone perché i nuovi elementi portano a pensare quello che ci avevamo detto all'inizio cioè che fanpage al contrario degli altri giornali d'inchiesta più strutturati con più esperienza abbia fatto sua questa storia non abbia verificato accuratamente la fonte e adesso rischia di scopriargli tutto in faccia tanto più che poche ore dopo il cataclisma il senatore aveva annunciato di voler querellare la testata stiamo speculando ovviamente ma ve lo dico se così fosse sarebbe un disastro sarebbe un disastro per il giornalismo perché a me quelli di fanpage stanno simpatici è un gruppo che ci prova e si impegna sta cercando di emergere come testata d'inchiesta non è poco ma ovviamente un errore del genere ricadrebbe un po' su tutti specie se dato dall'inesperienza ma sarebbe un disastro anche per le vittime di violenza specie violenze perpetrate da individui di potere se posso infatti aggiungere un dettaglio alla storia prima che tutto quanto finisca non è l'arena di giletti a quel punto signori mei facciamo i miei cognomi la donna in questione pare essere alla guida di un centro antiviolenza provate a immaginare sarebbe un disastro insomma da questa storia che giri da una parte che giri dall'altra ce lo dirà la magistratura questo ce lo dirà in tempi tutto sommato brevi qualcuno ne uscirà bruciato e in questo brucerà un sacco di gente attorno a sé bentornati e bentornate su Breaking Italy abbiamo un bel argomentore da affrontare oggi visto che la guerra che speravamo si raffreddasse sembra invece si scalderà ancora un po' però prima di affrontare la questione qualche giorno fa ho presentato uno sponsor del Breaking Italy Night e oggi parliamo dell'altro grosso sponsor che sta finanziando questa serie di serate in cui spero di incontrare quante più persone possibili tra voi NordVPN l'altro giorno parlavamo di come sia Rockstar la casa produttrice di GTA sia Uber che conosciamo tutti quanti bene siano state per così dire hackerate che però in realtà significa che una persona ha ottenuto accesso tramite la chat aziendale Slack alle conversazioni private degli sviluppatori e da lì avrà plausibilmente trovato file, password e quant'altro ed è interessante l'idea diffusa che questo succeda sempre agli altri per quanto grossi possano essere non importa ma non succeda mai a noi che siamo bravi attenti e non abbiamo nulla da nascondere ma ovviamente non è così e tutti quanti, tutti quanti non solo siamo potenziali vittime perché alle volte siamo anche solo distratti può accadere ma siamo potenzialmente l'anello debole di una catena perché accedere all'account personale di qualcuno che ne so in un'app di messaggistica significa leggere tutte le conversazioni con potenzialmente decine addirittura centinaia di persone con tutte le implicazioni del caso pensateci un attimo ecco uno strumento per rispondere a questo pericolo è Threat Protection di Nord che oltre ad avere un'ottima VPN che anonimizza il vostro traffico online ha integrato un servizio di difesa da phishing che è quando qualcuno cerca di impersonare che ne so le poste no da malware che sono quei software che cercano di installarsi dalle pagine web soprattutto quello un po' così o dal malvertising cioè il classicone dell'hai vinto questo oppure i bottoni che simulano tassi di download no che ti fanno proprio scaricare altra roba sono degli esempi di molti tipi di comuni attacchi e tutti quanti diventano potenzialmente meno nocivi se navigate tramite NordVPN che con un click senza installazione protegge la vostra navigazione passate tramite me con il link in descrizione o andando su shyproteggimi.it per avere una scontistica pazzesca vi costa pochissimo al mese più 4 mesi gratis e al solito un soddisfatto rimborsati di 30 giorni così se non vi piace lo potete disdire senza problemi peraltro visto che ne parliamo a caso innanzitutto ancora grazie a NordVPN che sponsorizza Breaking Italy Night inizio a sentire l'ansietta prepalco ve lo devo dire mi sto un po' cacando addosso e soprattutto c'è ancora qualche biglietto pochissimi ma ce ne sono non lasciatemi seggioline vuote il palco lo si vede bene da qualsiasi punto tanto il Carcano è un teatro molto particolare in questo vi lascio il link in descrizione mi raccomando non lasciatemi le seggioline vuote non lasciatemi che dobbiamo parlare di Russia anzi dai parliamo di Russia iniziamo dai referendum ieri separatisti filorussi delle repubbliche della regione del Donbass dopo settimane di avanzamento degli ucraini hanno annunciato che tra il 23 e il 27 settembre quindi tra venerdì e martedì prossimo indiranno un referendum per formalizzare l'annessione dei territori alla Russia e poco dopo annunci di imminenti referendum dello stesso tipo sono arrivati da altri due territori occupati quello di Kherson e quello di Zaporizia dove c'è la famosa centrale nucleare ora si tratterebbe di quattro referendum in stile Crimea 2014 e come nel caso della Crimea grandissima parte della comunità internazionale non li riconoscerebbe dato che pare abbastanza evidente sia che i processi democratici non sarebbero rispettati dato che a supervisionare il tutto ci sarebbero militari russi sia perché si tratta di aree al momento molto spopolate da chi le abitava prima dell'invasione per ovvi motivi sia ancora perché c'è stata un'invasione sono aree conquistate con la forza non è così che funzionano i referendum a testimonianza di questo già diversi leader internazionali hanno definito questi referendum una farsa a partire da Kuleba il ministro ucraniano per gli affari esteri al presidente francese Macron durante l'assemblea ONU di ieri sino al consigliere per la sicurezza statunitense Sullivan ad ancora ora il primo ministro canadese la presidente del loro parlamento Mezzola e questa mobilitazione in blocco ancora prima che le votazioni siano avvenute è data dal fatto che la comunità internazionale ovviamente non dimentica quello che era caduto in Crimea ormai occupata stabilmente da otto anni e comunque referendum riconosciuto o meno questo non cambia la realtà dei fatti i russi hanno occupato la Crimea ed è un dato di fatto se comunque ieri la preoccupazione si limitava all'annuncio fatto dalle autorità delle regioni interessate oggi la situazione è molto più tesa perché Putin in persona ha rilasciato una serie di dichiarazioni durante una conferenza stampa in cui ha anche parlato di questi referendum dando di fatto il suo pieno appoggio questa cosa vuol dire che se il risultato dovesse essere confermato cioè l'annessione dei territori a Mosca cosa data per scontata Putin considererebbe ogni attacco a quelle aree come attacco alla federazione russa e di conseguenza avrebbe le ragioni per ampliare il conflitto che a questo punto pone gli alleati occidentali di Kiev cioè noi man mano costretti ad impegnarsi di più in questa guerra perché cioè vuoi che l'Ucraina accetti di perdere il 20% del suo territorio così vuoi che non continuino i combattimenti attorno a Zaporizia vuoi che non ci lanci un missile è impossibile e questo è un problema sempre parlando dell'importanza del referendum comunque a un certo punto il presidente russo rivolge in questo discorso molto atteso una palese accusa alle forze occidentali di mettere in pratica delle politiche anti-russe minacciando Mosca con delle armi a lungo raggio e a questo proposito rintrodusse il tema delle armi nucleari che è un punto caldo dall'inizio del conflitto parlando di ricatto nucleare occidentale per corroborare queste accuse cita quindi sia un attacco ucraino alla centrale di Zaporizia che sarebbe stato appoggiato dai leader occidentali sia generiche minacce sempre da parte di questi leader di utilizzare armi nucleari contro la Russia cosa che però insomma pure i pacifisti più altransisti ametteranno a essere una falsità se c'è qualcosa che tutti hanno cercato di evitare è proprio il ricorso alle armi nucleari insomma a questo proposito Putin sottolinea come anche Mosca abbia le sue armi di distruzione di massa anzi più avanzate di quelle occidentali dice e afferma di essere pronto a utilizzarle per difendere la nazione una velatissima leggerissima minaccia che ci porterà poi alla peggiore parte del discorso perlomeno per quanto riguarda i giovani russi i ventenni principalmente arriviamo quindi alla seconda dichiarazione di Putin che è quella che in realtà sta creando più preoccupazioni stanno tutti impazzando dietro a sta roba il presidente ha infatti annunciato una mobilitazione parziale della popolazione convocando 300.000 riservisti laddove per riservisti si intendono tutte quelle persone che hanno sì prestato servizio nelle forze armate in passato ma sono ora in congedo quindi che nel frattempo si sono fatti una vita come qualsiasi cittadino svolgendo altri lavori ma infatti che in Russia i riservisti siano 2 milioni totali essendo il servizio militare di leva obbligatorio per un anno mentre quelli convocati da Putin sarebbero appunto 300.000 quindi il 15% del totale ora questo è sicuramente un gesto di rilievo in tutta la dinamica della guerra però perlomeno è una mossa che politicamente e socialmente avrà un suo impatto mentre non è chiaro quanto avrà peso a livello strategico mentre sulla carta infatti questa decisione aumenta di una volta e mezzo le persone che si ritrovano a combattere in Ucraina e nome di Mosca come spiega il New York Times tra gli altri la maggior parte di chi davvero è militarmente preparato è già stata convocata sul campo e ovviamente non è per niente detto che tutti questi riservisti abbiano di fatto una formazione sufficiente per svolgere quel ruolo lì oltre questo è possibile che Mosca avrebbe molte difficoltà nel fornire in breve tempo tutto il necessario a chi si ritrova di punto in bianco a scendere in campo e qui sto parlando sia della formazione ma anche di unità militari pronte ad assorbirli a guidarli nonché l'equipaggiamento la logistica ricordiamoci infatti che la stessa compagnia Wagner i mercenari e quali era stato affidato a un certo punto il compito di combattere in alcune zone calde era stato riportato come fossero anche loro in difficoltà a trovare nuovi combattenti dopo le perdite subite e stessa prendendo la gente dalle carceri proponendo ovviamente con il benestate del governo in particolare dell'oligarcha Prigozin di comutare la loro pera in servizio militare mercenario quindi non benissimo meraviglioso ora io non sono un esperto di strategie militari non ne so niente quindi mi rifaccio il report degli esperti ma posso sia immaginare che mandare 300.000 giovani male addestrati e male equipaggiati in inverno sul campo possa non essere la più strategica delle soluzioni se anche mi rendo conto che i numeri non tornano molto bene perché in occasione di questo annuncio immagino anche per tranquillizzare i ragazzini che saranno ora mandati al fronte e che non ci vorranno andare il ministro della difesa Shoigu ha annunciato che i soldati russi deceduti siano soltanto poco meno di 6.000 che però è un dato che non torna perché a quel punto starebbe andando tutto bene non avrebbe senso aggiungerne più del doppio con l'obiettivo peraltro timido e rivisto rispetto all'inizio di voler conquistare il Donbass insomma io mi sono fatto un po' l'idea che questa sia una mossa più politica che strategica che serve a far stare tranquilline le anime politiche più bellicose ma è anche una mossa pericolosa civili che vanno al fronte e muoiono in tanti significa poi veterani che tornano dal fronte e tornano arrabbiati per essere stati tirati in mezzo a una guerra con ottima probabilità non volevano partecipare e diventano poi forze di destabilizzazione per una società già scossa da quello che sta accadendo dalle sanzioni dall'isolamento io non la vedo come una mossa di forza questa però è un'opinione che vale quello che vale in chiusura parliamo un attimo della premiazione che si è svolta lunedì a New York e che ha visto il premio riuscente Mario Draghi ricevere il riconoscimento di statista mondiale world statesman che ovviamente non si traduce come statista mondiale il senso è più miglior statista internazionale se vogliamo ma statista mondiale fa più ridere ora il premio è stato conferito dalla fondazione appeal of conscience che consiste di fatto in un partenariato tra numerose associazioni sia finanziarie che religiose con gli obiettivi classici quindi promozione della pace risoluzione dei conflitti valori come la libertà la democrazia eccetera quello che è interessante è che si tratta di un'associazione che esiste da quasi 60 anni è stata fondata nel 65 dal rabino Arthur Schneider lui che è un sopravvissuto dell'olocausto e che negli anni ha visto premiate svariate grandi figure politiche solo tra gli ultimi abbiamo statisti come François Hollande David Cameron e l'anno scorso Shinzo Abe nel caso di Draghi le motivazioni sono state incentrate nel suo ruolo di leadership a livello sia economico che pubblico e per il peso che ha avuto in ambito non solo italiano ma anche europeo contribuendo in maniera significativa alla cooperazione internazionale il motivo per cui ne parliamo non è solo per l'importanza del premio ma per il significato che rappresenta un riconoscimento di questo tipo a uno statista italiano come Draghi che ha di fatto rimarcato il rispetto internazionale di cui ha sempre goduto al netto invece di come buona parte della nostra opinione pubblica ne parla ovvero di qualcuno che non conta niente ma ne parliamo anche per altri due motivi il primo ha a che fare con i discorsi che hanno caratterizzato l'evento e il secondo per le riflessioni che possiamo trarre da ciò che è stato detto per quanto riguarda i discorsi quello forse più significativo è quello dell'ex segretario di stato e diplomatico Harry Kissinger classe 1923 a 99 anni che parla con una certa emozione sia della sua amicizia di vecchia data con Draghi che del modo in cui abbia rappresentato una figura che univa sia la competenza dal lato tecnico che una visione da leader insomma un endorsement a ogni livello facendo riferimento anche alla situazione italiana perché Kissinger parla infatti di come Mattarella abbia scelto Draghi proprio per il suo essere sopra le parti e votato al bene comune insomma è un super endorsement ma non è finita la parte che credo sia più significativa viene dopo ed è quella in cui Kissinger parla di come ogni volta che Draghi sia stato chiamato a svolgere ruoli complicati di responsabilità e si sia poi da essi ritirato lo abbia fatto temporaneamente quindi una sorta di intervallo diciamo ma è un ritiro definitivo al che la folla ride ride lo stesso Draghi e tenetelo a mente perché ora arriviamo all'altro discorso che merita un attimo di analisi ovvero quello dello stesso Schneider il fondatore il rabbino infatti consegna il premio a Draghi questo che non si capisce molto bene ma è una colomba credo di vetro e lo ha del premier come difensore sia dell'Italia che dell'Unione Europea benedice la sua famiglia e poi aggiunge in un tono ironico che si aspetta che continua a essere promotore di quella stabilità in Italia e Draghi ride anche in questo caso ma è palese vogliare subito raffreddare gli entusiasmi fa anche il gesto per come dire andiamoci piano e poi procede con il suo discorso in cui tocca molti punti tra cui la lotta le autocrazie la guerra facendo notare come gli autoritarismi proliferino a causa della nostra esitazione e che serva insomma mantenere la barra dritta su certe questioni insomma è un chiaro invito a non ritirarsi dalle lotte per i diritti il clima o banalmente dalle sanzioni alla Russia ora il punto su cui vorrei ci concentrassimo un attimo è questo al netto del fatto che sia evidente che io abbia apprezzato la figura di Mario Draghi al governo non ne faccio mistero quando mai abbiamo visto degli endorsement così palesi e diretti per far sì che un capo di governo non se ne vada perché non posso che mettere questa cosa sul piatto cioè il riconoscimento internazionale per questa figura che ha comunque un valore importantissimo ma anche la capacità che ha avuto di mettere totalmente in ombre il resto delle forze di governo che litigavano sul lockdown mascherine e riforma del catastro e dall'altra le ragioni che hanno portato Draghi fuori da Palazzo Chigi e dalla leadership del paese cioè banalmente la questione di un termo valorizzatore a Roma e le ambizioni politiche di cui partiti messi in ombra una volta finita la fase Covid così la voglio buttare lì tanto in tre giorni si va a votare e vedremo cosa gli italiani avranno scelto per rimpiazzare Draghi tutto bene tutto bene e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube così non vi perdete i video che facciamo o andare a cercare il canale Telegram dedicato alle notifiche lì trovate le notifiche di ogni cosa che pubblichiamo sull'internet e vi ricordo anche che andando su breakingitaly.club potete finanziare quello che facciamo e le cose che faremo in futuro i biglietti mi raccomando non lasciatemi le seggioline vuote anche se sono tre no tutto pieno poi non succede di nulla in realtà però mi raccomando ci tengo che sia te sto parlando da molto tempo fate i bravi ci vediamo domani domani che giorno è? per quello di D per quello di D non ci vediamo non ci vediamo